La mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Rolando Rizzo che la dedica ad Anna. Vuole che parli del film del 1989 She Devil, lei il diavolo con Meryl Streep e Rison Bear come protagoniste uniche. Commedia piacevole che vede al cinema da 17 anni che è diventato un calcio, una commedia abbastanza caustica che purtroppo si rovinava nel finale, secondo me un po' troppo all'acqua di rose. La storia è questa qui, Rosen Bear è una donna brutta, goffa, poco da dire che non si tiene, che non si cura. Ha un marito invece aiutante che è praticamente la molla per una scrittrice di romanzi rosa che vive tutta nel suo mondo fatato e che è appunto Meryl Streep. La nostra che sembrerebbe così in realtà facile ad essere fregata, la nostra Rosen Bear invece architetta un piano per distruggere la vita di entrambi, distruggendoli la casa, la carriera e la libertà una cosa alla volta. Quindi un film caustico, una commedia molto particolare in questo punto di vista, una commedia intelligente e che metteva almeno per la prima parte di fronte una lotta fra donne veramente di quelle mitiche. Con una Rosen Bear perfettamente in parte, geniale proprio con quel neaccio, un'attrice bravissima qui che dava tutto il senso della sua verve comica e il montaggio è ottimo in questo senso. Meryl Streep è un po' carriata a pile, nel senso è un po' mandata col freno tirato, cioè è lì che fa un po' se stessa, quasi una caricatura, quindi male non è ma di sicuro non è il ruolo della vita. Però il film è indubbiamente un filmetto che si lascia guardare volentieri, certo non è invecchiato proprio che è una bellezza, è un film che porta un po' i suoi anni addosso, però all'epoca invece tanto successo, tanto scalpore e nonostante appunto il buonismo finale dove tutti imparano un po' a essere migliori, per me la prima parte, specialmente quando viene criticata la nostra e poi viene tradita e soprattutto all'inizio della vendetta e la parte centrale sono notevoli proprio perché hanno i tempi giusti che la regista riesce perfettamente a beccare, ovvero Susan Seldman. E quindi che dirvi, un film tutto sommato divertente, non so nemmeno se c'è una vita che non lo vedo, però me lo ricordo, insomma all'epoca fece successo, ripeto, fece anche un po' scalpore per questa cosa, insomma non era il mondo di adesso, si parla quasi di 35 anni fa, quindi molto molto più tranquillo, in un certo senso è bigotto, però il film fece parlare e alcune cose sono veramente interessanti, la distruzione, quando le distrugge la casa, tutta la parte in cui l'ha in fama e lei non se ne rende conto, il prefinale, i 20 minuti prima degli ultimi 20 minuti, sono veramente notevoli e quindi classico film con una sceneggiatura discreta, con dei grandi attori, quindi per me il classico film e in un certo senso medio, che però io rivedo volentieri probabilmente un cult, è un cult assoluto in quel senso, anche questo è uno di quei film che comunque dimostravano un certo tipo di voglia di raccontare come la bellezza e come l'estetica e come l'edonismo fosse in America a casa sua e fosse solo quello il valore che conta per un uomo e anche per molte donne, quindi un film tutto sommato che criticava l'atteggiamento delle persone che guardano solo all'aspetto, per essere però troppo buono nel suo finale, anche se è diventato super cult perché ha due o tre sequenze davvero notevoli, per il resto il link è qui sotto, a voi l'ultima parola come sempre.